Musica Buonasera dal telegiornale Treviso, edizione dominicale dei nostri notiziari e quindi vediamo insieme quali sono state le notizie caratteristiche particolari di questa settimana. Noi l'abbiamo assoluto stamattina di questo problema, del cigno nero che gli avevano spostato, modificato il nido. Siamo stati intervenuti, abbiamo chiamato tutte le guardie provinciali per capire il problema, per venire a vedere cosa stava succedendo realmente, per capire di persona cosa sta succedendo. Dopo la segnalazione attraverso il nostro telegiornale, l'ente Parcosile e la polizia provinciale si sono recati lungo la restera dove nei giorni scorsi lo splendido cigno nero ha deposto le uova, cosa che non accadeva da sette anni. Qualcuno però ha distrutto il nido a terra e il timore dei telespettatori che avevano segnalato l'accaduto ai nostri microfoni era che le uova corressero un serio pericolo. Ecco il perché del sopralluogo odierno. A vedere la situazione così com'è, sembra che non si debba fare assolutamente niente. Il cigno sta covando tranquillamente le sue uova, perciò si lascia così. Nessun tipo di manovra è il caso di farla, sembra che non sia messo in pericolo da niente, per cui non vedo perché disturbarla in questi momenti importantissimi per loro che sono quelli della riproduzione. Purtroppo una delle uova, come si poteva temere, è stata persa. Sono tre. Una in mezzo a due è stata persa, si è probabilmente rotta. Bisognerebbe capire la causa. Non sembra comunque di braconaggio, perché altrimenti sarebbero state perse tutte e tre. Il cigno sta difendendo molto bene il nido, lo sta curando, l'abbiamo osservato anche prima quando siamo arrivati. Conseguentemente faremo peggio se intervenissimo nel toccare in qualche modo il nido. Rispetto alla media nazionale il numero di matrimoni aumenta a Treviso, però poi più della metà di questi matrimoni si risolve in un divorzio. Ne crediamo sia necessario pure la questione. Visto il considerevole aumento di divorzi e separazioni anche a Treviso, il Comune tenta di correre ai ripari offrendo alle coppie un percorso che possa essere d'aiuto ad affrontare i problemi che si presentano inevitabilmente dopo un po' di tempo che si vive insieme all'interno di ogni nucleo. Alle coppie mancano ormai un'istruzione, qualcuno che le accompagni nella capacità di imparare ad amarsi, che nella nostra società attraverso i molteplici stimoli in qualche modo è sempre più difficile, è sempre più complesso restare assieme e rinnovare la propria capacità di darsi affetto, sostegno, solidarietà, cura reciproca. Il prossimo fine settimana dunque al Centro Anziani di Via Castello d'Amore si svolgeranno gli incontri dall'Io al Noi, proprio per approfondire le tematiche che ruotano attorno alla dimensione di coppia, oggi come oggi sempre più difficile da tenere salda. Il legame, l'amore è qualcosa che va costruito, non coincide solo con un sentimento, ma coincide anche con un atteggiamento, con delle azioni, con delle scelte che vanno imparate, che in qualche modo vanno rinnovate, che vanno in qualche modo rigenerate. Sarà necessaria una preiscrizione. Domenico 8 maggio si terrà in Piazza dei Signori la terza edizione della Festa della Cittadinanza. Saranno infatti consegnati gli attestati della cittadinanza civica per i Ussoli, un gesto simbolico con il quale l'amministrazione vuole accogliere nella comunità trevigiana i bambini stranieri nati in Italia nel 2007-2008. Le situazioni ormai che viviamo sono paradossali, nel senso che ci sono scuole nelle quali la maggior parte dei bambini, sebbene di famiglie, appartenenti a famiglie che non sono originarie dell'Italia, è nata comunque in Italia, fino al 90% ci diceva una dirigente scolastica, quindi ci troviamo di fronte ad una situazione che va gestita nella maniera migliore. La festa prevede esibizioni di canto, ballo di vari gruppi appartenenti a diverse etnie e sarà un momento di convivialità per tutti i bambini e le loro famiglie, ma soprattutto la città si candida ad entrare nel Guinness. Con un chilometro di teli, lenzuola, realizzate dai bambini di Treviso, queste tele qua sono state dipinte in questi sei mesi con mani, piedi, pennelli, insomma con tutto quello che i bambini potevano avere a disposizione e assolutamente con la collaborazione degli insegnanti e diverse associazioni che hanno collaborato appunto per realizzare questo progetto. La sorta di grido che la cittadinanza trevisiana fa contro appunto la violenza sui minori, tutto quello che ci sta attorno, purtroppo siamo abituati a sentire sempre più spesso. Una candidatura che potrebbe essere doppia. Sia la lunghezza del chilometro che è simbolico, diciamo che per realizzare un Guinness bisogna presentare un progetto che sia abbastanza enorme e quindi un chilometro ci è sembrata una misurazione corretta, però abbiamo raggiunto secondo me un Guinness che è ancora più importante che appunto è la partecipazione di tutta la cittadinanza e anche di alcune realtà limitrofe. In occasione della decima giornata dei diritti dei pazienti autistici europei l'associazione lotta all'autismo onlus di Treviso mercoledì sarà a Bruxelles. Noi andremo come auditori a Bruxelles per questa decima giornata sui diritti del malato per imparare quali siano le migliori prassi sulla salute mentale e imparare dai paesi più sviluppati. Proprio con questo scopo è nato il tavolo intergruppo degli eurodeputati, il cui cofondatore è il deputato trevigiano David Borrelli. L'autismo in Europa infatti presenta livelli di conoscenza nettamente superiori a quelli italiani quindi c'è molto da imparare. Noi sappiamo che per esempio rispetto alla Scozia l'Italia è arretrata di circa 30-40 anni in merito alla conoscenza, alla consapevolezza e alle buone prassi. Ecco che allora noi cercheremo di capire come con il tempo riusciremo anche Treviso e l'Italia insomma a migliorare tutto ciò che ha a che fare con l'autismo. È recente il caso dell'esclusione delle due bambine dalla gita scolastica. Nel caso dell'inclusione scolastica e quindi la comprensione come diciamo noi è necessario fare tanto. L'Italia ancora deve imparare molto dall'Europa e dai paesi più sviluppati. Un proiettile da mortaio calibro 75 risalente alla prima guerra mondiale. Con questo ordigno custodito nello zainetto uno studente della scuola media di Cimadolmo martedì mattina ha scatenato il panico tra compagni di scuola e insegnanti. La preside ha fatto immediatamente evacuare il plesso scolastico di via Lovadina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e anche il sindaco del paese. Si discuteva quella mattina del primo conflitto mondiale. Cimadolmo come si sa nel 1915 era la sede principale dello sfondamento dei vari conflitti mondiali. A casa aveva questo manufatto, in realtà hanno fatto dei lavori di manutenzione quindi il padre l'aveva messo in sicurezza prima di poter avvisare l'autorità giudiziaria in modo tale da reperire l'ordigno. Il bambino per curiosità o per fare vedere ai bambini e dare testimonianza di quel conflitto mondiale ha pensato di portarla a scuola. Dopo aver verificato la consistenza del mortaio gli artificieri l'hanno sequestrato. Era un ordigno che aveva potenzialità per poter esplodere. Giustamente era un ordigno che è dormiente perché si tratta del primo conflitto mondiale quindi la vera potenzialità si saprà quando farà fatto brillare e a breve verrà fatto brillare. Sono al vaglio provvedimenti da parte dell'istituto nei confronti dello studente che il sindaco ha visto molto provato e dispiaciuto e della famiglia che non aveva avvisato la scuola. Oltre ad una sanzione pecuniaria il rischio è quello di una condanna maggiore per non aver fatto disinnescare l'ordigno e per possesso illegale di armi da guerra. Ogni cosa che viene ritrovata va denunciata all'autorità giudiziaria. Alle persone dico di non toccare nulla di ciò che non è conosciuto perché può essere sempre un elemento esponenziale può recare dannosi alla persona o a quelle che ci stanno a fianco. Al caffoncello di Treviso viene attuata una tecnica chirurgica innovativa per la ricostruzione della mammella dopo essere guariti da un tumore. È una tecnica innovativa che serve ovviamente a dare una risposta alla donna senza avere il rigetto nel momento in cui mette una protesi mammaria ma soprattutto una tecnica che si avvale anche di alta strumentazione perché noi abbiamo acquistato da poco appunto un meccanismo che dà la possibilità alla donna prima di fare l'intervento di vedere come la sua morfologia possa essere dopo ovviamente l'intervento di chirurgia plastica. Questa tecnica nasce dall'esigenza di coprire un materiale che può essere potenzialmente visto come un corpo estraneo dalla paziente con un materiale biologico e pertanto la novità sta nel fatto che appunto avvolgiamo con questo materiale e poi la mettiamo in un piano sovra pettorale quindi in un piano fisiologico cioè andiamo a ripristinare in realtà la mammella dove la natura l'ha messa cioè sopra il pettorale. Un sistema innovativo ma soprattutto con poche possibilità di rigetto quindi molte di successo. Meno probabilità di rigetto, noi abbiamo un follow up a 4 anni possiamo dire che fino adesso non abbiamo avuto nessun tipo di rigetto cioè la protesi rimane ancora morbide mentre con le tecniche tradizionali spesso vedevamo delle mammelle nel corso degli anni indurirsi. Al caffoncello sono già oltre 50 i casi in cui è stato possibile impiegare questa tecnica che aiuta una donna non solo per una questione estetica. È un fatto culturale ed è un fatto etico cioè dare ovviamente ancora la donna il fatto di sentirsi donna totalmente e di superare quel difficile momento legato appunto a questa mutilazione io credo sia un fatto etico e sia un fatto ontologico. Dopo l'oro di Bebe in Coppa del Mondo la favola delle Pantere di Conegliano con Limoco campione d'Italia la marca fa poker d'assi con la stoccata di bronzo individuale argento a squadre nei campionati europei Under 23 grazie a due moglianesi Erika Cipressa di 21 anni e la coetanea Martina Sinigaglia per quest'ultima con il bronzo un ritorno in grande stile dopo un pesante infortunio al crociato ecco la emozionata felice e afona dopo aver tanto esultato per la gioia l'abbiamo incontrata nel pomeriggio appena rientrata dalla Bulgaria anche se con la mare in bocca perché mi aspettavo una vittoria ma salire sul podio a un europeo è comunque una grande soddisfazione la sconfitta non è il peggior fallimento il peggior ostacolo di se stessi è non aver tentato il motto della guerrita fiorettista trevigiana agente del corpo forestale dello Stato che già pensa ai prossimi obiettivi non ci si ferma perché tra meno di un mese ci saranno i campionati italiani assoluti a Roma quindi vi aspetto e vi mando un saluto a tutti gli stili spettatori di Rete Veneta un bacio se per i 450 profughi della caserma Serena si sta procedendo all'attivazione del wifi gratuito continua l'accoglienza alla Caritas di Treviso per gli oltre 170 richiedenti asilo dei quasi 800 ospitate nel 2015 i rimasti e accolti di norma per un massimo di 8-9 mesi sono per lo più uomini giovani dai 18 anni in su provenienti dalla Nigeria, Gambia e Somalia quelli partiti invece sono soprattutto eritrei e siriani hanno scelto di fermarsi per lo più in Germania e nei paesi del nord Europa Svezia in testa per raggiungere i loro familiari il focus sull'accoglienza nella marca presentato oggi dalla Caritas Arvisina con il duro attacco di Don Davide Schiavone all'Europa un flusso inarrestabile questo dei migranti cui la Caritas da sola non potrà continuare a fronteggiare dice certamente ecco la dimensione emergenziale permane ecco perché si fa fatica a strutturare questo cerchiamo però di dare anche una risposta a quella che è l'integrazione con un progetto rifugiato a casa mia che vede 36 persone accolte in famiglie e parrocchie per far sì che queste persone non vadano ad aumentare la marginalità tra gli aiuti a favore di chi vive ai margini anche quelli agli italiani non soltanto senza tetto ma anche single e donne 50 anni separate e rimaste senza lavoro tra queste prevalgono le badanti vengono ospitate per un massimo di un mese nella nuova struttura femminile in una di queste 10 stanze con un angolo cucina e relax aiuto anche per le famiglie con la riduzione di quasi 100 euro per il cannone d'affitto come affitti sociali ecco è un intervento fatto insieme in forma sperimentale dell'amministrazione comunale di Treviso che ecco si pone di aiutare quelle famiglie che hanno delle difficoltà o delle piccole morosità a superare il momento ecco di fatica per non cadere poi in situazioni che possono comportare ecco sfrati o situazioni insanabili 6 maggio 1976 quella sera in Friuli c'era anche lui Antonio Zamberlan è il trevigiano sopravvissuto al sisma di 40 anni fa aveva 20 anni ricorda quando artigliere da montagna alla brigata Iule del gruppo Udine riuscì a salvarsi grazie a un pegno d'amore mi colicavo presto alla sera arrivava il buio abbastanza presto alle 9 e avevo la consuetudine di scrivere una lettera ogni giorno a mia moglie quella che è diventata poi mia moglie a Rita e quella sera non avevo i bolli per spedire la lettera sono uscito dalla caserma perché sarei stato sicuramente a dormire come tanti miei amici che poi sono rimasti sotto alla caserma che è crollata e quindi sono salito a Gemona in paese ho acquistato i bolli sono entrato in un bar e da là è successo il finimondo molti dei suoi compagni invece perirono sotto le macerie della caserma distrutta dal terremoto venne giù tutta la caserma del gruppo Udine così come quella del gruppo Conegliano dove rimasero sotto praticamente 14 persone del mio gruppo metà delle quali tra l'altro trevigiani del territorio di Treviso e un carissimo amico che era tra l'altro compagno di scuola all'istituto Cerletti di Conegliano c'eravamo appena diplomati Mario Calegari quella notte si salvò ben due volte scambato al dramma del crollo della caserma venne ferito successivamente da una gru che scavava in mezzo alle macerie e per poco la lama non gli tagliò la giugolare ma io quando mi guardo allo specchio dico se era due centimetri più su mi uccideva come ogni anno la rinnovata gratitudine per essersi salvato si traduce nel rivedere i luoghi di quel doppio miracolo insieme alla sua famiglia in arrivo la maxi stangata nei confronti di un migliaio e forse più eco furbi multe da 160 euro in su con arretrati in bolletta da lacrime e sangue già pronti i bollettini a tremare quelli che hanno ripetutamente evitato di ritirare i vari bidoni della differenziata nonostante il vincolo imposto dall'azienda dei rifiuti chi non ritira il bidone ha violato un obbligo del Consiglio di Bacino Priula gli ecovigili del Consiglio di Bacino Priula staccano delle multe a chi non ha ritirato il contenitore perché è obbligatorio panico anche per i soliti furbetti che hanno utilizzato sempre e soltanto il bidone del secco lasciando ad intendere una presunzione di illecito chi non vuota mai è un sospetto di abbandono allora faremo delle attività di indagine, di controllo visite a casa delle verifiche di altro tipo per stanare il probabile abbandonatore ecofurbo che non è detto nel frattempo non si è stato ripreso da una delle tantissime telecamere mobile e fisse della Polizia Locale disseminate nei 50 comuni del Bacino Priula ed ecco come l'azienda dei rifiuti stana i furbetti attraverso il numero impresso sui bidoni attraverso la lettura dei trasponder vediamo che sono vuoti anche questa è una frazione rispetto al tutto ma sono i più probabili abbandonatori della nostra platea di contribuenti tra polemiche e contestazioni per tariffe ritenute le volte troppo care vero è che il modello porta a porta di Treviso e provincia fa scuola oggi la visita di una quarantina di esperti ambientali della Catalogna per disincentivare il sistema attuale spagnolo dello smaltimento in discarica e promuovere una gestione dei rifiuti ecosostenibili al pari di quella di marca in Catalogna c'è una ecotassa sul smaltimento in discarica di 20 euro e l'idea del governo attuale di innalzare questa tassa di 5 euro ogni anno fino ad arrivare a un livello di 50 sta distraendo tutte le risorse che andavano ai quartieri in particolar modo questo di Fiera Salvana dove c'è la pericolosità l'icolumità eccetera a favore delle piazze in centro privilegiare il centro storico dimenticandosi dei quartieri fuori mura l'accusa al sindaco Manildo arriva dall'opposizione a Selvana tanti progetti per migliorare il quartiere alcuni ipotizzati altri già previsti nel piano di opere pubbliche come per una pista ciclabile ora scomparsa col risultato che ai ciclisti non resta che pedalare sui marciapiedi ha motivato questa scelta a voi? no a noi non ci vada proprio lui va avanti alla Renzi così come dire ama gli estremi estremi rimedi le opposizioni hanno deciso di allestire nel prossimo fine settimana un gazebo per raccogliere tutte le richieste del quartiere buche e radici sull'asfalto comprese come per via degli alpini perché a Cassugana poi non si dica che non si sapeva una persona mi ha chiamato e mi ha detto che è caduta una signora che si è rotta la faccia e le sono venute a verificare se questo è vero o meno insomma a Selvana si sentono un po' dimenticati non solo dal sindaco ma in genere da tutta la giunta come per questo tiglio che da tempo sporge sulla strada e che diventa pericoloso quando si incrociano un'auto ed un camion io l'assessore ho scritto una bella letterina nel quale chiedevo che venisse levato l'assessore Michelin ha demandato tutto all'assessore Gazzola perché è lei che tiene il portafoglio l'assessore Gazzola ha detto ok però l'Aibero è ancora là e con quest'ultimo servizio per il telegiornale domenicale è tutto grazie a tutti voi per l'attenzione per aver scelto la nostra informazione e appuntamento alle prossime edizioni Grazie a tutti